Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Grazie mille. Grazie mille. Io mi sarei possibilizzato se non è che le fanno finita, mi sarebbe girato con niente. Aspetta, è girata, mi sarebbe spesa. Che non sa bersare, deve essere girato, cazzo. Puoi fare l'aeroplanino? Siccome loro hanno festeggiato per conto loro, noi festeggiamo per conto nostro, la nostra. A vostra. Allora, non c'està, non c'est riquezza. Per te, della salute! Per te, della salute!